C'è poco a commentare. Abbiamo trovato una squadra aggressiva in tutte e due le parti del campo e noi secondo me non siamo stati altrettanto aggressivi. Se poi dopo ognuno di noi in difesa uno contro uno non ha tenuto il proprio uomo, è inutile parlare di tattica, strategia, quindi secondo me è stato un po' un evento sporadico. Però siamo dell'idea che è meglio che certe situazioni succedano il prima possibile in modo da capire quello che non va e per poter lavorarci sopra.